Io mi chiamo Innella Gilda, ho 55 anni e sono di Calciano. E qui, in onore della Madonna della Serra, ogni anno facciamo la festa. E facciamo questi ceri, che sono pieni di candele, si portano in testa. Fin dagli anni 50, che li portavano ancora i nostri genitori, i nostri nonni. Con la speranza che anche i giovani porteranno avanti questa tradizione, perché ormai non ci sono più nei paesi. Sono fatti un telaio di legno e poi intorno si mette tutta della cera. Poi si mettono i fiori, dei nastri, con il coso alla fine che gira. E poi va messa la fotografia di San Rocco e della Madonna. E queste cose si fanno, è un voto che si fa. È un voto, è una tradizione che fin dagli anni 50 si facevano, li facevano i nostri nonni. Sperando che i giovani portano ancora avanti queste belle cose, che sono bellissime. Poi quando si esce dalla casa di chi lo fa, si dà l'onore alla banda, che si offre qualcosa da bere, e poi parte il cero, dalla casa di chi lo fa fino alla chiesa. Le tradizioni sono queste, i ceri, il pane a San Rocco che si fa, che portano il pane tutte nelle ceste, qui davanti la chiesa, viene benedetto e poi si offre a tutta la gente. Prima era tutto diverso, adesso è tutto un altro mondo, con i giovani, tra i telefonini, i computer. Noi diciamo che ringreteniscono lì vicino, invece prima no. Si giocava in mezzo alla strada, facevano tanti giochi, anche i bambini. Adesso ancora devono nascere già con i telefonini in mano, quindi è tutta un'altra generazione. Grazie a tutti.